La cucina è la regina dei format tv di successo del momento, la master chef a cucina da incubo, da cuochi e fiamme al boss delle torte. Cucinare non è mai stato così alla portata di tutti, la pensa così anche Maxi Garden di Osimo, che propone una serie di iniziative tutte dedicate al mondo del barbecue. Ogni giovedì pomeriggio si sperimenta una ricetta diversa insieme ad un cuoco esperto e si possono provare con mano le diverse tipologie di barbecue, a carbone, a gas ed elettrici. Tutte le informazioni sulle prossime iniziative anche sulla pagina Facebook di Maxi Garden.